Musica Cari amici telespettatori di San Marino Web TV e appassionati di militari a un buongiorno da Axel Paderni quest'oggi ci troviamo a Torraccio nella nostra Repubblica e tra poco torneremo a parlare dell'associazione raggruppamento SPA di San Marino quindi rimanete collegati e scopriamo le novità di questa nuova puntata Bene amici ci è raggiunto Fabio Temeroli che è il presidente dell'associazione raggruppamento SPA di San Marino nonché vicepresidente dell'Automobile Club San Marinese Beh innanzitutto questo è il frutto del vostro ultimo restauro Sì intanto buongiorno a tutti Sì come vedete il nostro ultimo lavoro è un camioncino che si chiama dalla sigla Fiat 618 M Coloniale 618 sta per la tipologia di autocarro, un piccolo camioncino M sta per militare e coloniale sta per coloniale perché come vedete ha una colorazione sabbia che era una colorazione dedicata alle nostre colonie quindi intorno al 34, questo autocarro tra l'altro è stato costruito dal 34 al 37 e dal 34 in avanti siamo andati in Somalia, in Eritrea alla conquista della nostra colonia con questi camioncini un camioncino molto interessante poi dopo man mano vi racconterò anche un pochino di caratteristiche di questo camioncino Beh un camioncino che comunque ha decisamente molta storia da raccontare ma voi come ne siete entrati in possesso? Come al solito fortunosamente perché qualcuno prima di noi ha tentato di salvare un pezzo di storia poi non è riuscito a concluderla e noi ne siamo venuti in possesso e abbiamo ultimato il lavoro anche grazie a questo collezionista che lo ha salvato Parlando invece di caratteristiche del mezzo, che tipologia di carro era? Allora è un camioncino che deriva da un'automobile nasce nel 1934 quando c'era l'esigenza anche noi di avere una colonia e quindi abbiamo riversato meccanicamente la meccanica di un'automobile che era della FIA tardita dalla cilindrata di 2000 su un camioncino di questo genere, su questo camioncino che era molto importante per noi siamo entrati in guerra con un camioncino che probabilmente non era all'altezza all'epoca però comunque sia era molto interessante un veicolo che serviva al trasporto di truppe e anche di materiali un camioncino 4x2, come lo vedete ha una livrea sabbia tra l'altro è un camioncino che non ha grandi prestazioni in pianura se la cava egregiamente ma come sentiva le salite ne soffriva tanto quindi è stato usato molto per il trasporto di truppe quindi portava 9 persone, era diventato un autocarro di squadra che seguiva le artiglierie e si è comportato egregiamente nonostante le sue modeste capacità ci siamo spostati in un capannone qui a Faetano ci era giunto Iuma Terenzi, ricordiamo socio dell'associazione del gruppamento SPA siamo alle spalle dello SPA dovunque 42 un mezzo che tu hai visto restaurare che era arrivato proprio non nelle migliori condizioni certo, intanto buongiorno a tutti si ricordo un po' di mesi fa quando lo vedi insomma era un po' sgangheratino se mi permettete questo termine poi l'ho visto quando abbiamo fatto una registrazione assieme che era a metà restauro e oggi lo vediamo nel suo splendore che è praticamente tornato come nuovo beh, dal socio dell'associazione una grande soddisfazione per tutto quello che è l'opera di restaura ma soprattutto di conservazione di questi mezzi sì, è veramente un patrimonio storico che andrebbe valorizzato questo lo diciamo sempre anche con l'amico Fabio e andrebbe creato un museo penso e spero che si stia lavorando mi sembra di sì e spero che venga realizzato al più presto torniamo con Fabio Optemeroli finalmente questo mezzo è pronto sì, intanto buongiorno a tutti anche da parte mia se vi ricordate bene nella puntata che facciamo a tempo addietro era in fase di restauro quindi era quasi ultimato ma ora è finito, è completamente finito è marciante e speriamo di farne di poterlo sfoggiare ad un raduno o alla prima occasione che ci capita beh, Yuma, lo vorrai guidare? eh, mi piacerebbe non so se ci vuole una patente particolare ma magari chissà un giorno Fabio mi insegna come si fa e lo farò ben volentieri bene, ci siamo spostati chiaramente di capannone siamo alle spalle di un altro mezzo che ha fatto anche questo a Storia sì, intanto buongiorno a tutti di nuovo il mezzo che si trova qui alla nostra destra è uno SPA TL37 SPA sta per società piemontesi automobili che è la ditta che lo costruiva TL37 sta per trattore leggero 1937 è un trattore d'artiglieria quindi dedicato e adibito esclusivamente al trasporto di artiglieria tant'è vero che ha sei posti proprio perché gli artiglieri che muovevano il pezzo a rimorchio servivano erano molto importanti il trattore è interessante perché è un quattro ruote motrici e sterzanti e direttrici quindi per l'epoca era estremamente innovativo una meccanica molto raffinata 4.000 di cilindrata quello che vediamo che possiamo ammirare sempre in colorazione sabbia quindi coloniale è la versione di questo trattore pontiere che si differenziava dal tradizionale da quello normale perché ha un vericello enorme e cos'altro dire direi che è stato usato su tutti i teatri ed operazioni in cui l'Italia ha partecipato nei vari conflitti e come ne siete entrati in possesso? era un rudere come al solito ce lo si passa tra collezionisti era in mano a un collezionista che non era in grado di poterlo portare a termine quindi noi parliamo già di parecchi anni fa parliamo di 15 anni fa ne venimo in possesso poi lo restauriamo subito e questo è il risultato Fabio tra poco è ora di andare a pranzo però alle nostre spalle abbiamo una cucina da campo sì 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 come potete vedere è una cucina da campo che è stata costruita a cavallo tra gli anni 20 e 30 tant'è vero che si chiama modello Etiopia perché eravamo in procinto di andare in Africa è una cucina legna che poteva fornire il pasto credo a un centinaio di persone aveva la possibilità di essere ipotrainata oppure col traino meccanico tant'è vero che veniva fornita con tutte e due le tipologie di traino e anche questa cucina ce la siamo portata in giro per tutti i teatri e operazioni a cui abbiamo partecipato nel mondo e sempre parlando un attimo della storia di questo pezzo come ne siete entrati in possesso? questa cucina da campo è stata trovata una trentina d'anni fa quindi intorno agli anni 90 da uno sfascio a carrozze e siamo riusciti la comprammo e poi col tempo siamo riusciti a restaurarlo è stato molto impegnativo però il risultato lo vedete ne valeva la pena bene amici telespettatori di San Marino Web TV vi ringraziamo di essere stati con noi ancora una volta ringraziamo l'associazione Raggruppamento Spa per averci messo a disposizione tutti questi bellissimi mezzi e averci fatto conoscere la storia che ci sta dietro chiaramente a questi reperti storici e ci vediamo nel proseguo dei programmi di San Marino Web TV da Axel Paderni da Faetano è tutto linea alla regia di San Marino Web TV di San Marino Web TV